La forza per raggiungere il pareggio, potevamo portare a casa la partita, però dopo non siamo riusciti. 20 minuti di superiorità numerica, cosa è mancato per vincerla? Questo non lo so, anche perché loro hanno iniziato meglio e nel secondo tempo li abbiamo fatto meglio noi, quindi sono momenti della partita, alti e basi, comunque ci sono. C'era rimpianto o alla fine soddisfazione per averla scampata magari con quel rigore? No, c'era sia soddisfazione che rimpianto, anche perché abbiamo avuto un'ottima reazione dopo il gol, soprattutto disputando un secondo tempo buono e rimpianto, perché comunque per le espulsioni di Biava potevamo portarla a casa.